salve in questo video tutorial di chimica provo a spiegarvi come risolvere esercizi di stechiometria allora io prenderò una reazione chimica come esempio innanzitutto bisognerà bilanciarla e poi vediamo come ragionarci sopra per risolvere esercizi di vario tipo di stechiometria allora io pensavo come reazione esempio di fare un'ossidazione l'ossidazione del ferro per esempio allora prendiamo il ferro lo facciamo reagire con l'ossigeno l'ossigeno gassoso è sempre una molecola biatomica mentre tutti i metalli vengono indicati come come atomici quindi con il simbolo dell'elemento si forma l'ossido di ferro noi immaginiamo che si formi l'ossido ferrico F2O3 perché il ferro ha due numeri due numeri di ossidazione per controllare che le formule siano giuste devo verificare con il numero di ossidazione se tutto torna il ferro è più 2 anzi più 3 l'ossigeno è meno 2 quindi ho più 3 per 2 fa più 6 meno 2 per 3 fa meno 6 quindi il totale fa 0 quindi è giusto poi altra cosa importante bisogna bilanciare la reazione chimica per bilanciare devo fare in modo che il numero di atomi che ho tra i reagenti li ritrovi tra i prodotti per esempio qui ho un atomo di ferro qui ne ho due dovrei mettere un 2 qua davanti qui ho due atomi di ossigeno qui ne ho 3 uno è pari uno è dispari faccio il minimo comune multiplo che è 6 quindi per ottenere 6 qui devo mettere un 3 per ottenere 6 qui devo mettere un 2 però adesso ho 4 atomi di ferro allora di qua dovrò mettere un 4 adesso la reazione chimica è bilanciata l'esercizio mi può chiedere varie cose tipo se ho mezzo chilo di ferro quanto quanti grammi di ossigeno mi servono oppure quanti litri di ossigeno mi servono qual è la massa del prodotto che ottengo date due quantità di ferro e ossigeno qual è la massa del prodotto che ottengo avanza qualcosa di uno dei due reagenti qual è il prodotto limitante qual è il prodotto in eccesso qual è la resa della reazione sapendo qual è la resa reale della reazione chimica ecco proviamo a fare degli esercizi di questo tipo la prima cosa da fare per chi ha poca dimestichezza diciamo con questi tipi di esercizi è costruirsi una tabella con le moli in gioco le masse in gioco i volumi in gioco e poi ragionare con delle proporzioni con questi valori adesso costruisco la tabella può essere inizialmente un po' diciamo richiede un po' di tempo però dopo una volta che ho costruito la tabella io posso risolvere facilmente qualsiasi esercizio per cui consiglierei chi si approccia a questo tipo di esercizi di iniziare in questo modo allora per esempio mi scrivo le moli in gioco faccio su una riga metto quali sono le moli in gioco qui ne ho 4 qui ne ho 3 e qui ne ho 2 poi su un'altra riga metto le masse in gioco qui ho 4 moli di ferro allora vado a vedere sulla tavola periodica quanto pesa una mole di ferro quindi prendo la tavola periodica vado al ferro il ferro numero atomico 26 ha una massa di 55,8 adesso posso arrotondare un pochettino facciamo 56 quindi qui avrà una massa di 56 per 4 56 per 4 grammi qui avrà una massa di quindi ho 3 moli di molecole di ossigeno ogni molecola pesa vado a vedere la massa dell'ossigeno è 16 arrotondando quindi una mole di atomi pesa 16 quindi di molecole pesano 32 e devo fare 32 per 3 perché prendo 3 moli quindi 3 per 32 grammi e poi qua ho 2 moli di triossido di di ferro potrei anche semplicemente sommare queste masse per il principio di Lavoisier oppure come verifica rifaccio il calcolo quindi ho 2 moli di ferro quindi 56 per 2 facciamo il calcolo fa 160 per 2 quindi avrò 2 per 160 grammi se faccio il calcolo ho le masse in gioco di questa reazione bilanciata ecco adesso ho ricalcolato le masse e come verifica vedo che 224 più 96 fa 320 grammi per cui questo mi verifica che i calcoli sono corretti quindi le moli in gioco le masse in gioco se ho a che fare con dei gas posso scrivere anche quali sono i volumi in gioco ipotizzando di essere in condizioni standard io so che una mole di qualsiasi gas occupa 22,4 litri l'unico gas in questa reazione è l'ossigeno di cui ho 3 moli quindi sarà 22,4 per 3 che fa 67,2 litri quindi questo è 22 il volume molare per 3 moli e gli altri non sono non sono gas per cui li lascio così qua non c'è niente e qua non c'è niente quindi ho moli, masse e volumi a questo punto con delle proporzioni io posso risolvere qualsiasi esercizio facciamo qualche esempio ipotizziamo che l'esercizio ci dia una certa massa di ferro per esempio 432 grammi di ferro quindi qui stiamo parlando ancora di massa e ci chiede di calcolare qual è la massa dell'ossigeno che ci serve e quanto ossido di ferro si ottiene la richiesta è quanto ossido di ferro si produce allora per rispondere alla domanda basta fare una semplice proporzione cioè io dico se con 224 grammi di ferro se con se 224 grammi di ferro hanno bisogno di 96 grammi di ossigeno allora 432 grammi di ferro avranno bisogno di x grammi di ossigeno quindi farò 224 grammi di ferro sta a 96 grammi di ossigeno come 432 grammi di ferro staranno a x grammi di ossigeno ferro ossigeno ferro ossigeno devo fare in modo che la proporzione rifletta una certa logica quindi 224 reagiscono con 96 allora 432 e reagiranno con x risolvo la proporzione 96 grammi per 432 grammi fratto 224 grammi grammi e grammi si semplifica faccio il calcolo a 185 grammi quindi la risposta è 185 grammi l'esercizio mi chiede quanto ossido di ferro si produce posso sommare questi due valori oppure posso come prima fare un'altra proporzione cioè se 224 grammi di ferro producono 320 grammi di triossido di ferro allora 432 ne produrranno x e quindi risolvo con la proporzione questa proporzione funziona anche incrociando diciamo moli volumi per cui si risolve con un solo passaggio con una sola proporzione anche altri tipi di richieste facciamo degli esempi ipotizziamo che l'esercizio si chieda di calcolare quanto ossido di ferro si produce se ho a disposizione un tot di litri 275 litri di ossigeno quanto ossido di ferro ottengo allora anche qui posso sempre fare una proporzione allora posso dire se con 67,2 litri ottengo 320 grammi allora con 275 otterrò x grammi quindi 67,2 litri di ossigeno stanno a 320 grammi di ossido di ferro come torno ai litri di ossigeno 275 litri di ossigeno stanno a x grammi di ossido di ferro risolvo la proporzione fa 1309 1309 grammi di ossido di ferro triossido di ferro e quindi ho calcolato facilmente la massa di un prodotto a partire dal volume di gas oppure proviamo a ragionare in termini di moli ad esempio di quanti moli ho bisogno per avere 13,2 grammi di triossido di ferro allora anche qui proporzione se con 4 moli di ferro ottengo 320 grammi allora con x moli di ferro otterrò 13,2 grammi quindi 4 sta a 320 come x sta a 13,2 linee fuori 0,17 moli di ferro quindi posso facilmente ragionare incrociare anche nella proporzione moli massa volumi purché rispetti in qualche modo la logica della proporzione e in questo modo mi trovo qualsiasi cosa con un solo passaggio facilmente l'esercizio poi può diventare un po' più difficile se per esempio ci vengono dati due valori di masse dei reagenti e ci viene detto di capire qual è la massa di prodotto che si forma e se una delle due masse dei reagenti avanza o è in difetto e quindi bisogna un po' fare ulteriori ragionamenti facciamo un esempio immaginiamo che ci vengano dati 47 grammi di ferro io sommetto due valori a caso e 125 grammi di ossigeno voglio sapere quanto ossido di ferro ottengo allora se voglio così rispettare la tabella siccome ho dato due valori a caso e quindi non rispettano le proporzioni quindi 224 sta a 96 come 47 non sta a 125 perché questi due valori non sono in proporzione allora conviene metterli in due righe separate e il 125 lo mettiamo qua sotto allora io ho queste due masse non so bene quanto ossido di ferro venga fuori e devo capire probabilmente uno dei due è in eccesso e quindi l'altro sarà in difetto allora cosa devo fare la cosa migliore è calcolare per ogni massa quale sarebbe il valore dell'altro reagente e poi ragionare su questo uno potrebbe anche guardando le masse iniziali a occhio capire quali sarebbero le masse in eccesso in difetto però secondo me conviene comunque fare il calcolo così dopo si può calcolare che esattamente quanto avanza o quanto ne mancherebbe comunque ad esempio qua io vedo che la massa del ferro è circa così a grandi linee il triplo di quella dell'ossigeno qua vedo che la massa invece del ferro è molto più piccola di quella dell'ossigeno quindi diciamo dato una massa di ferro io necessito di una piccola massa di ossigeno per cui i 47 grammi di ferro avranno bisogno di una piccola quantità di ossigeno che io ho ne ho tanto invece 125 grammi di ossigeno avranno bisogno di una grande massa di ferro che io non ho per cui questi 47 grammi di ferro vedo già che non bastano saranno in difetto quindi avanzerà ossigeno comunque facciamo i calcoli quindi con due proporzioni mi calcolo questi due valori se 224 sta a 96 come 47 sta a x a x chiaramente sono tutti i grammi ferro ossigeno ferro ossigeno x uguale e fa 20 grammi adesso abbiamo calcolato questa x di ossigeno quindi qua dentro dovrei scrivere provo a calcolare adesso il ferro di qua allora sempre 224 sta a 96 come y diciamo sta a 125 quindi y che è il ferro fa 292 grammi di ferro questo di ossigeno quindi al posto della y qua posso scrivere 292 grammi ecco adesso che ho queste due masse che mi servirebbero per i rispettivi reagenti posso facilmente capire chi avanza che è in difetto e quanto ne avanza quindi qua ho 47 grammi di ferro che mi vengono dati ne servirebbero 20 di ossigeno la domanda è ce li ho 20 di ossigeno certo perché vedo che ne ho molti di più ne ho 125 per cui io so già che ne avanzano posso scriverlo anche qua vicino ne avanzano 125 meno 20 quindi 105 grammi avanzano ok questo è l'avanzo quindi l'ossigeno è reagente in eccesso il reagente in difetto quindi sarà il ferro per fare agire 125 grammi di ossigeno mi servirebbero 292 grammi di ferro che io non ho perché ne ho solo 47 e posso dire facendo la differenza qual è la massa del ferro che mi manca per far avvenire la reazione allora di queste due reazioni la prima e la seconda io so quale può realmente avvenire può realmente avvenire solo la prima perché io possiedo 20 grammi di ossigeno invece la seconda non può avvenire perché io non ho 292 grammi di ferro quindi questa avviene e so allora quanto ossido di ferro teoricamente si forma cioè 47 più 20 fa 67 67 grammi di triossido di ferro un altro esercizio che si può fare è quello di calcolare poi la resa perché può darsi che mi dica l'esercizio che in realtà con 47 grammi di ferro non ottengo 67 grammi di ossido di ferro ma ottengo solo ipotizziamo quindi la resa della reazione chimica reale è di 47 no facciamo 41 grammi di ossido ok stiamo parlando di resa cioè io teoricamente dall'esercizio otterrei 67 grammi praticamente nel laboratorio se ne ottengono solo 41 allora devo calcolarmi posso calcolarmi quella che è la cosiddetta resa percentuale e questa è una semplice percentuale quindi posso o fare una proporzione o se uno lo sa fare direttamente si calcola la percentuale con la formula e quindi percentuale quindi la percentuale viene fuori facendo 41 diviso 67 per 100 e fa 61 per 100 quindi la resa la resa diciamo della mia reazione chimica in laboratorio è del 61 per 100 vuol dire che per vari motivi a livello industriale laboratoriale non si riesce a ottenere la resa totale perfetta data dalla reazione chimica ma solo una parte ma solo una parte